Ci presentiamo, siamo le polpette veloci di Lucca. Oggi il nostro progetto parlerà di bulli e buoni. È un viaggio che parte dalla casa buia e fredda dei bulli e ci conduce attraverso delle buone azioni, alla casa colorata e calda dei buoni. Partiamo! Il primo cartello dice, supera gli ostacoli. Arriviamo alla cascata, ci immergiamo e superiamo la pozza. Ci sarà soltanto una buona azione. Mi prendo il gioco di un bambino in difficoltà. Aiuto un bambino in difficoltà. Aiuto un bambino in difficoltà. Se avessi aperto l'altra porta sarei caduto nella lava e mi sarei rigenerato di nuovo nella casa dei bulli e avrei dovuto ricominciare il viaggio. Girare le spalle. Dare la mano. Secondo me dare la mano perché sarebbe stato un segno d'amicizia. Prendo una pozzone della visione nottuna in una cassa e vedo scritto, bevila! La prima scala ci porta al semiterrato, la seconda ci porta al piano superiore e infine la terza ci porta al sentiero della stazione. Seguo il sentiero per la stazione, ok? Ok. Salve i gradini. Stazione! Di qua! Ok. Di qua, ok. Siamo arrivati alla stazione. Infatti vedo il cartello scritto stazione. Ci sono due azioni. Dicono La prima, offendere e insultare. La seconda, difendere e elogiare. Secondo me difendere e elogiare. Se avessi preso l'altro carrello sarei tornato alla casa dei bulli e dovrei riniziare il punto da capo del viaggio. Siamo arrivati alla casa dei buoni. Tutta colorata. Siamo arrivati alla casa dei buoni. Da bulli siamo diventati buoni. Grazie, arrivederci.